musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo velocissimo video io sono xuder e ragazzi mentre eravamo in live durante la nostra sessione pomeridiana dalle 15 alle 18 sulla piattaforma viola stiamo un attimo vedendo dei misteri che sono presenti su gta 5 magari alcuni li hanno visti magari alcuni non li hanno mai visti in questo momento sto rifacendo la missione numero 1 dopo aver messo gli ostaggi nella banca rapito la banca e ammazzato i primi poliziotti dobbiamo scappare dalla polizia scappando però bisogna andare sulla destra dove c'è questo lago ghiacciato e sotto un ponte sembra esserci un alieno congelato andiamo a vederlo insieme non l'ho mai visto dunque vediamo se vediamo il fiume congelato è sicuramente questo voglio vedere l'alieno congelato eh ma mi dà la missione fallita scusate ma mi dà la missione fallita mi dà la missione fallita ah bisogna scendere più avanti ok non lì il ponte congelato è quello lì deve esserci un alieno congelato qua dovremmo esserci diamogli un'occhiata un alieno congelato un alieno oh porca miseria no raga c'è veramente un alieno congelato lo vedete ma che cacchio what wow porca porca vacca beh ragazzi l'alieno congelato c'era ed è veramente wow io vi ringrazio per aver guardato questo video anche se è vecchio wow noi siamo in live sulla piattaforma viola ciao